Ciao a tutti, benvenuti in diretta. Allora vado solo a controllarmi se tutto funziona come di routine. Dovrebbe essere tutto a posto. Faccio solo una verifica. Intanto se qualcuno si è già connesso mi dica per favore se sente l'audio. L'audio si sente, dovrebbe essere a posto. Ho fatto la verifica. Bene, aspettiamo che si connetta qualcuno. Intanto, ciao, chi arriva scriva qualcosa. Cominciate a mettere ciao Marina, ciao. Mettete like per favore, pompate un po' questa diretta così la vedono anche altre persone. Facciamo più engagement anche con gli altri. Ciao Simona, ciao. Mettete like per favore, fate share così raggiungiamo più persone e facciamo una bella chiacchierata questa sera. L'audio a posto? L'audio si sente, perfetto. Aspettiamo un attimino che si connetta ancora qualcuno. Questo sembra essere, sembrerebbe essere un errore migliore. Oggi voglio parlare delle inserzioni che spaccano. Ovvero, quali sono quegli elementi che devi assolutamente avere per creare un'inserzione che spacca. Ci fai lo sconto se mettiamo like? Che sconto vi devo fare che è gratis? Mannaglia, che tirchi che siete. Porca miseria. Mi fate svenare, mi fate diventare povero, non mi mettete neanche un like. Forza, reazioni ragazzi, fate engagement, depuratevi. Ogni volta che mettete un like, fate uno share di un mio video, vi sentirete meglio. Ogni volta che striscerete la carta per comprare qualcosa di mio, sarete felici. La vita si allunga. Sono quelle cose che vi faranno stare meglio con voi stessi, col mondo, con la gente che vi circonda. Sono quelle piccole cose che portano alla felicità, soprattutto le strisciate. Va bene ragazzi? Ok, direi che possiamo incominciare. Ciao a tutti, ciao Tiziano. Parliamo di inserzioni. Quindi, di base, cosa devo fare per fare un'inserzione che porta risultati? Tante persone, quando approcciano i social network, come cominciano secondo voi? Solitamente, cosa fanno? Cominciano a sponsorizzare, utilizzano Facebook in maniera amatoriale, cominciano a sponsorizzare i post che creano. Ma la domanda è, che poi mi dicono magari, Marco, guarda io ci perdo. Cioè, la cosa che mi viene detta di più, quando qualcuno mi parla di sponsorizzate Facebook, è Marco, guarda, io non ci guadagno molto. Ok, faccio l'esempio classico di una persona che ha una palestra e sponsorizza la palestra, ok? Marco, io non ci guadagno molto. Come la sponsorizzi sta cosa? Cioè, partiamo dalla base, ok? Qual è il tuo obiettivo? Quindi, portare persone in palestra. Ok, quindi stiamo parlando di un local business e tu vorresti che tramite le inserzioni le persone entrassero in palestra e si iscrivessero. E questo è tutto perfetto nella norma, ok? Ma, cosa stai scrivendo su questo post? La domanda che io mi faccio più volte, no? Che faccio alle persone? Cosa stai scrivendo su questo post? Il 90% delle persone scrive il proprio indirizzo. Cioè, pubblicizza il proprio indirizzo. Allora, sui social questo non funziona, ragazzi. Non funziona. Sui social si va per svago. Voi siete qua per svago, per sentire informazioni, per divertirvi un attimo, per fare qualcosa che vi interessa. Quindi si va negli interessi delle persone. Prima di tutto bisogna capire questa cosa. Quindi un indirizzo, benché possa essere scritto nella migliore delle ipotesi, sui social non funziona. Quindi questo è uno dei primi grandi errori da fare. Non serve a niente scrivere il tuo indirizzo oppure scrivere la tua bio. Non funziona. Non gliene frega un cazzo nessuno del tuo indirizzo e della tua bio. Come non interessa nessuno è il mio, eh? Attenzione, non è che io, perché so fare magari le ads e le faccio da tanti anni, se scrivo il mio indirizzo sulla mia pagina cambia qualcosa. Non gliene frega un cazzo. A voi mi interessa qualcosa il mio indirizzo, no? E quindi, cioè, partiamo dalle basi. Quindi il mio consiglio di base è cercare, prima di tutto, di capire come funziona il social network. Se le persone vanno... Francesca dice, ecco, io lo faccio sempre, sono una sciocca. E' una sciocca, perché se è una sciocca, perché tu metti solo l'indirizzo o metti la tua bio. Della tua bio, non gliene frega un cazzo nessuno. Ragazzi, le persone non vanno su Facebook per sapere cosa fai tu nella vita. Non gliene frega un cazzo. Cioè, se non sono persone che vengono a spiarvi, i vostri amici che vi spiano il profilo. Ma quello è un altro gioco. Cioè, qua dobbiamo fare business, ok? Perché il social selling di base è l'arte di creare business profittevoli che partono dal social network. Quindi, di base tu devi creare denaro. Devi creare un movimento che porta denaro. Con il tuo indirizzo, ragazzi, cioè, non funziona così. A me è di vedere i vostri indirizzi su Facebook. Non me ne frega un cazzo. Quindi la cosa principale è creare... Dovete mettere in moto la macchina dell'engagement, ok? Perché le persone vanno su Facebook? Le persone vanno su Facebook perché seguono degli interessi, ok? Hanno gli interessi, vanno per svagarsi, per vedere le cose che succedono, per vedere le news, per ottenere informazioni. Prendete bene queste cose che vi dico, eh, ragazzi, perché queste fanno parte dei miei corsi e ve le sto dicendo. Quindi, memorizzatele. Prendono informazioni. Si va sui social seguendo una domanda latente. Ovvero, non va... Come le scrivo anche spesso, se ho le morroidi, non vado su Facebook a cercare una soluzione. Magari andrò da un'altra parte. Andrò su Google. Corro in farmacia, insomma, faccio altre azioni. Oggi, su Facebook, devi ragionare in maniera differente. Quindi, devi dare informazioni per risolvere dei problemi che attirino l'attenzione delle persone. Ma io lo faccio perché poi mi chiedono sempre dove vi trovate. E lo so, allora, Francesca, però, se tu mi dici che fai un annuncio di base perché poi le persone non sanno dove sei, vuol dire che tu hai sbagliato il vecchio... Cioè, hai sbagliato in principio. Se manca quell'informazione, l'hai sbagliata in principio. Cioè, tu devi... Non è che poi, facendo quello, elimini... Tu escludi tutto il resto e dai solo l'indirizzo. Che cazzo c'entra? Non funziona così. E' come se ti dicessi che mamma, oggi manca il sale nella pasta e il giorno dopo mia madre mi fa trovare solo il sale. Cioè, capisci che non funziona. Metti un po' di sale nella pasta. Nel senso, metti nel tuo annuncio anche il fatto di poterti trovare facilmente. Di base funziona così. Quindi, ragazzi, dobbiamo capire che oggi i social network sono il punto, il luogo fisico, virtuale, dove trovare clienti a basso costo. Il più basso costo che esista al mondo. Immaginate quanto costi fare una pubblicità in televisione. Costa... Allora, perché renda più o meno sono... Si parla a 7 milioni di euro. Ok? Perché comincia ad entrare nella testa dei 7 ai 20 milioni. Siccome nessuno qua, e neanche se ci sommiamo tutti quelli che stanno guardando sto video, arriviamo a 20 milioni, quindi dobbiamo trovare strade alternative. Facebook ci permette di targettizzare con precisione. Quindi le inserzioni che devono fare, però, devono essere congrue all'ambiente Facebook. Ci siamo? Dovete avere, in sostanza, un format educativo. Quindi la vostra inserzione è fatta così, che mettete la vostra... mettete la vostra... la foto dei vostri prodotti, dei vostri servizi, il vostro indirizzo, non serve a niente. Voi dovete attirare l'attenzione delle persone ed educarle ad ascoltarvi fino a poi farle comprare. Qual è lo scopo del marketing? Il primo che me lo scrive vince. Intanto che continuo a parlare, scrivetemelo qua sotto. Qual è lo scopo del marketing? Vediamo che chi mi sa rispondere bene a questa domanda ha vinto un premio. Soprattutto cominciate a mettere anche qualche like, ragazzi, se non fate i tirchi. Insomma, mi fate svenare qua e non mi mettete mai un like, non mi fate engagement. Io ho sempre qui a trasmettere a gratis e voi non mi mettete neanche like. Tirchi. Non vedo... Non vedo nessuno che interviene. Vendere. Lo scopo del marketing è vendere. Sì, 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 ok, ci sta. Però vorrei una spiegazione migliore. È vero che lo scopo del marketing è vendere perché alla fine noi, alla fine della fiera al punto finanziario noi interessa vendere. Ma è un po' più profondo di questo, ok? C'è un po' più specifico. Tiziano dice che lo scopo del marketing è comunicare. Non ci siamo ancora. È vero, è vero, perché il marketing comunque comunica, ok? Comunica, ma non è ancora questo. Si va più nel profondo. Ragazzi, questa è una cosa importantissima è che se la capite, che tra l'altro l'avrò anche già detto, ma voi come al solito non mi ascoltate. Io parlo ore, ore, ore qua a vanvera. Forza ragazzi, provate a scrivermi secondo voi qual è lo scopo finale del marketing, cioè andando nel profondo. Cosa serve? E questa è una cosa che non dice nessuno e mi preoccupa. Mi preoccupa perché è proprio la base. Comunicare per vendere. Eh sì, ci siamo, ma non è questo. Francesca dice comunicare che vendere. Quando capiremo il vero e preciso scopo del marketing, ovvero quello che serve il marketing, Vittorio dice convincerti che hai bisogno di quel prodotto o servizio che ho, creare bisogni, giusto? Sì, ok? Tra l'altro hai una foto in, cos'è, una dragon stai facendo? Sì, anche, ok, convincerti che hai bisogno di quel prodotto o servizio è giusto, non è che è sbagliato, però non è ancora quello che intendo io. Vedrete, poi quando ve lo dico vi cambia la visione completamente. Renata dice che lo scopo è interessare. Sì, cioè è vero anche questo, non te lo posso negare, quindi quello che avete detto adesso, ovvero comunicare, vendere, convincerti, creare un bisogno e interessare, sono tutte cose giuste, ok? Ma realmente lo scopo del marketing è un altro, cioè va più nel profondo e soprattutto se hai studiato copywriting, se hai studiato o soprattutto copywriting con me, questa è una cosa che spiego bene nel corso di copy, cioè come arrivare a quello che voglio dire. Se vediamo la prossima risposta, se no ve lo dico io, ok? Così nessuno vince. Intanto bravi che state mettendo le azioni, bravi, fate qualche share, tirchi, mamma mia che siete, è come se mi mettesse il gettone al videogioco, creare un modo ragazzi mi vedete o mi sentite ecco mi sono bloccato cose che succedono su facebook dovrebbe essersi risolta la situazione ditemi solo se si vede bene ora ok perfetto allora lo scopo del marketing qual è ragazzi effetto baccalà cosa significa ah beh che ero rimasto incantato con la faccia ok vediamo se è arrivato a qualche creare emozioni interessare sì tutto giusto tutto giusto ragazzi però ancora non ci siamo allora il vero scopo del marketing attenzione apritele ciao diana ciao ciao conan vittorio dice ti ho visto in un'intervista con montemagno grande sì sì tempo fa sì vittorio tempo fa ho fatto un'intervista con montemagno quindi qualcuno ce l'ha l'imbuto che si intende il funnel ci siamo quasi ma non è la risposta esatta la domanda che sto facendo è qual è il vero scopo del marketing che ragazzi è lo scrigno che racchiude tutti i segreti che qualsiasi marketer il formatore vi può dire cioè parte tutto da lì dalla bibbia delle azze di marco doria che è questa ragazzi che non vi siete ancora comprati perché non vi siete ancora comprati la bibbia delle azze su di voi non ce l'avete tutti ma io mi verrò nei sogni a darvi fastidio quando sarò morto di crepacuore verrò a prendere che non avete comprato la mia bibbia portare una persona dal suo punto di vista al tuo non ci siamo ancora diana dice vendere è giusto è giusto quello che dite voi ma non è ancora questo il punto non è vero cioè sì sì perché non ti posso dire no marketing alla fine porta a vendere perché alla fine ragazzi non è che siamo lì a noi vendiamo sempre qualcosa anche se io fossi un predicatore di una religione alla fine ti vendo la mia idea ok quindi di base è vero che vendere ma andiamo più francesca ha trovato la soluzione eccola qua hai vinto ha vinto perché si è letta si è letta la mia bibbia maledetti ok lo scopo del marketing è creare azione creare azione ragazzi sempre creare azione nel una persona che sta leggendo sta ascoltando i tuoi materiali lo scopo del marketing è creare azione perché attenzione non è detto che subito cioè il marketing a me serve per portarti da da un perfetto sconosciuto a essere una persona che compra e ricompra il mio fan questo ve lo ricordate è la cosa più semplice che spiego ok il marketing mi serve per portare una persona da questo quello quindi devo creare azione la prima azione sarà interessarlo quindi ok guardiamo la diretta di marco la seconda azione sarà ok scarichiamo i materiali gratuiti sul suo sito perfetto la terza cosa sarà ok mi interessa compriamo la bibbia delle ads ok è il mio è il mio corso le arts non servono un brazzo ok poi dopo compriamo l'accademy di marco e avanti così e creare azione nel copywriting che è l'arte di scrivere per vendere in realtà lo scopo è anche lì è quello di creare azione nel lettore perché io dal lead dalla headline ok che è il titolo il mio scopo è portarlo un gradino sotto non è che è vendere in quel momento il mio scopo principale scrivendo l'headline e portarlo giù quindi fare relazione ok ho letto il titolo mi ha interessato voglio sapere di più porto gli occhi più in basso ed è una sequenza cascata nel copywriting perché se tu immagini ok dal titolo devo interessarmi a scendere con con le parole no quindi leggo il titolo e poi il passo successivo qual è leggere questo paragrafo e poi leggere questo finché non si arrivano ad appunti ok punti chiave dove c'è da fare un'azione successiva quindi telefonami piuttosto che clicca qui piuttosto che lasciami le mail e man mano le azioni devono diventare sempre più abitudinali cioè io mi abituo a creare un'azione nei miei confronti le persone che ti seguono dopo un po sono abituate non hanno più il problema che non ti conoscono non ti lasciano la meno perché dopo un po che ti conoscono fanno azioni più impegnative quindi perché funziona in questo modo perché piano piano è come la filastrocca della ranocchia nell'acqua nell'acqua calda se tu butti la sapete tutti tu butti una rana nell'acqua bollente questa salta fuori ma se tu la metti nell'acqua fredda e accendi un fuoco sotto questa si lascia bollire e muore perché perché non si accorge dell'aumento di temperatura quindi in realtà è la stessa cosa che tu devi fare tu devi creare azioni io consiglio sempre di farlo in maniera morbida per iniziare di modo che poi le persone piano piano si abituano a fare azioni nei tuoi confronti a fare acquisti nei tuoi confronti acquisti più grossi c'è anche chi arriva duro e vende duro a freddo e ragazzi però oggigiorno la sfida più grossa che noi possiamo avere nei confronti delle persone è avere la loro attenzione questa è la è la è la è la base la cosa più complicata oggi avere l'attenzione delle persone è difficile è difficilissimo quindi quando io faccio già questo primo passo di ottenere la tua attenzione poi devo ottenere un qualcosa da te perché se mi limitassi a fare un programma televisivo tu tanto non fai niente nei miei confronti invece il marketing è creare azione ok soprattutto quando siamo noi piccoli con piccoli budget è inutile pensare di fare quello che fanno in televisione alla barilla che mette la pubblicità o sta stronzata dell'asterisco della motta che porca miseria se sento ancora vi picchio bisogna creare azione ok non parlare azione diana dice creare relazioni azioni sì 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 la relazione è la prima cosa perché comunque nel momento in cui io ti attiro l'attenzione cerco di entrare in una certa in una cerchia di confidenza con te cioè all'inizio se avete studiato i miei corsi comunque vabbè è molto semplice c'è un grafico che è praticamente il portare da una persona che non ti conosce a persona una persona prendere una decisione c'è una curva no questa curva a un certo punto inizia senza un certo punto inizia sempre con una paura diffidenza nei tuoi confronti c'è il muro della diffidenza provate a corteggiare una ragazza per strada a freddo dicendoli ti voglio sposare questa ti molla una mappina in faccia a meno che non è una che cerca la residenza allora forse ti forse non sarà così però comunque di base non non è questo l'approccio che bisogna avere ok nelle relazioni nelle relazioni sia un approccio diverso poi bisogna cercare di attirare un po interesse di modo che inizia una conversazione anche mentale nel senso che adesso in diretta voi potete parlarmi però se io facessi semplicemente un video voi guardereste una è una conversazione mentale con me che parlo nel video e voi che ragionate si questo sta dicendo una stronzata questo sta dicendo una cosa bella marco è bellissimo questo è scontato renata dice a me sicuro gli molli una mappina in faccia intendo o per il permesso di soggiorno non ho capito cosa intendevi e comunque sì ragazzi è questo quindi per creare un'inserzione che spacca come dicevo subito dobbiamo ragionare con la testa dell'inserzionista facebook quello del social seller non di quello che fa un annuncio dovete avere un format educativo un format educativo che educa una persona a compa fare delle azioni nei vostri confronti bravissima renata dice che gli molla una sberla e anche di rovescio ok che fanno prima sapete quelli da genitore che arrivavano così perché almeno negli anni 80 non si picchiava così anzi negli anni 80 si picchiava sia così che così ma la prima era sempre rovescia no perché poi riprendeva la rincorsa perdere l'altra quindi ecco bravi così si fa va bene ragazzi quindi l'idea di base è fare questo dovete prendere del tempo non è una cosa che si fa subito ci va tempo a educare le persone però quando vendete il vostro prodotto servizio dovete avere questo in testa soprattutto perché oggi il social ragazzi se non fa se non riuscite a fare soldi partendo dai social oggi vuol dire che ancora non avete capito come funzionano perché è praticamente impossibile cioè tutto oggi si può lo dico per esperienza e cioè ho lavorato in centinaia di nicchie e mercati vi posso dire che in tutti i modi chiaramente c'è ovviamente mettendo le i tasselli nel mondo nel modo giusto c'è possibilità di avere un ritorno qualsiasi cosa il vostro formale educativo deve essere che spinge le persone a avere un'azione io vedo a volte però cose troppo complicate e fatte male le basi semplici ragazzi cioè la prima cosa da capire ok come educo le persone c'è il fatto la prima cosa è capire come educare le persone a interessarsi a un format che gli presenta una soluzione tramite un prodotto servizio chiamato big idea questo target deve essere specifico adatto a questo tipo di messaggio ok è molto semplice se non è chiaro ve lo rispiego comunque di base è questo qui quindi una volta che ho trovato questo ragazzi cioè è impossibile sapete qual è un altro errore che fanno le persone che fanno inserzioni provate a dirlo voi fatemi ridere vediamo se se avete se avete l'idea perché questa io non me la sarei mai immaginata provate a dirmi qual è l'errore più comune che fanno le persone che fanno inserzioni oltre a farle come dico sempre io la prima cosa che sbagliano è a fare inserzioni però provate a dire voi qual è intanto mi guardo un po di commenti se ce ne sono non ce n'è avete messo like maledetti ok allora ragazzi la domanda è qual è l'errore che fanno le persone l'errore più grande che fanno le persone che creano inserzioni ed è talmente semplice che secondo me non c'è arrivate renata dice una pura presentazione senza una cta la cta è la cal to action c'è la chiamata all'azione cioè significa premi qui telefona qua ok poi si dà un'urgenza c'è una serie di cose da fare per presentare la cal to action però in realtà no non è questo no ancora più semplice ragazzi fanno un errore malornale le persone fanno questo errore che tra l'altro gatto non mi puoi fregare perché questo non l'ho scritto nella bibbia delle axe diana se poi vuoi la bibbia vai sul mio sito www marcodoria.com risorse gratuite ti scarichi i tre video che ci sono lì nei tre video ti arriva l'offerta per avere sia quello che il dvd a prezzo promo se no te lo devi comprare a 147 euro francesca dice l'errore più grande non dare del tu a chi legge sì perché in realtà c'è è vera questa cosa ma non è questo l'errore più grosso francesca dice quando ti rivolgi sui social network alle persone devi dare del tu nel copio e metti se funziona così tranne proprio piccolissime in realtà tu dovresti avere una conversazione amichevole col col tuo pubblico però non è questo l'errore più grosso che fanno a parte che poi non si può vedere gentilissimo cioè io quando già vedo gentilissimo oppure quando ragazzi quando mi incazzo come una bestia quando mi chiamano dottore io per quando mi chiamano dottore io spaccherei tutto cosa ne sai tu che sono dottore o meno cioè ma poi cosa cosa cambia quindi quindi cosa qual è il cioè qual è il plus di sta cosa che sono dottore cosa dici cazzo comunque non è quello ve lo dico io ragazzi dai l'errore più grande che fanno le persone che fanno inserzioni e non vendere niente non avere nulla da vendere vi rendete conto è il più grosso è il numero uno questo è l'errore numero uno non avere nulla da vendere di fatti spesso mi dicono marco ma ste inserzioni non sono vanno cioè poi alla fine vado vedere ok fammi vedere la tua strategia no mettimela giù fammi controllare quello che fai passo dopo passo ok ma cosa vendi e le persone non sanno non sa neanche loro cosa vendono cioè si mettono lì fanno video fanno dirette però non sanno non sanno non sanno cosa fare ci sono persone che fanno video che non hanno nulla da vendere e mi dicono che poi vanno male stai buttando i soldi stai buttando i soldi ci sono persone tante persone la maggior parte delle persone che fanno inserzioni e non hanno nulla da vendere quelli che le fanno le fanno male e quindi vedi ragazzi perché vi dico quel momento adesso l'inserzione è soltanto l'amo ok è l'amo di tutto il resto ma voi dovete avere l'esca giusta il filo giusto dovete essere nelle acque giuste nel momento giusto dovete avere tutta l'attrezzatura giusta la canna giusta dovete poi avere tutta la tecnica ok quindi non mi basta prendere un'amo come se io andasse a pescare vado a comprare migli ami vado al negozio di pesca da dammi da migli ami va prendo gli ami vado vado al porto prendo l'amo lo butto così ed esco vabbè vediamo quanto quanto ci mette qua sto pesce arrivare fuori ragazzi è così fanno fanno così le persone cioè una roba che io io dico ragazzi vuoi sveglia cioè c'è tutta una serie di cose da fare il social selling è l'arte di creare un business profittevole che parte dai social quindi significa che nei social devo creare quella devo pasturare spiega per favore sì cosa ti devo spiegare nata non hai capito bene questa cosa fammi una domanda meglio metti mi giù la domanda meglio voi dovete pasturare l'acqua sapete cosa vuol dire pasturare le acque significa che create un'abitudine il pescatore cosa fa non è che va subito a pescare crea un ambiente nell'acqua mettendo la pastura quindi crea abituale i pesci andare a mangiare una determinata ora in un determinato momento la giornata in un determinato punto i pesci si abituano crea un'abitudine mentale creazione poi cosa succede a un certo punto non mette più la pastura mette la sua la sua esca con il suo amo con il suo filo giusto con la sua carne alla pesca giusta nel momento giusto con il mulinello giusto e con la tecnica giusta pesca ok Renata no non intendevo che tu vendi cose che non interessano a nessuno l'errore che fanno tante persone e non vendere proprio è come se io facessi questa diretta oggi senza vendervi niente non avendo prodotti da vendere che scopo a che scopo io faccio sta cosa anche se ti aiuto ok ti aiuto a fare nei social ad avere più successo a vendere i tuoi prodotti ma se io marco d'olio non avessi dei prodotti da vendere sarebbe un errore perché perché sto sprecando tempo e soldi a fare inserzioni per non vendere nulla e vi assicuro vi assicuro che la maggior parte degli inserzionisti là fuori non vende un cazzo non vende sapete perché perché non ha nulla da vendere non ho ancora capito che i social non sono un ambiente dove andare lì e poi magari poi vedo cosa vendere no bisogna fare reverse cioè partire da una big idea come dico sempre una grande idea che risolve un problema ok il vostro prodotto servizio impacchettato facendo l'uovo di pasqua non so se avete sentito le dirette gli altri giorni male se non le avete sentite quindi facciamo l'uovo di pasqua vendo l'uovo di pasqua un target specifico tramite un format educativo ragazzi vi sto praticamente facendo un corso gratis questo fan educativo porta le persone a step by step a fare delle azioni nei miei confronti attenzione questo step by step può essere complicato perché il marketing è complicato i numeri sono complicati ma deve iniziare in maniera semplice perché è dalla semplicità che si parla della semplicità ok devo avere un prodotto che mi porta margine devo trovare un target a cui presentarlo devo creare il modo di interessare le persone a questo la base è semplice io vedo le persone che si complicano la vita fanno i funnel a questi oggi tutti devono fare sti cazzo di funnel e poi non vendono un cazzo cioè vi rendete conto tutti devo fare il fan nel fanno il corso del fan nel vanno si costruiscono il fan nel prendono click fan nel comprano libri del fan nel tutto sto fan nel ragazzo io non ho un fan nel e vendo e ci sono persone là fuori che hanno un fan nel non hanno niente da vendere oppure hanno un fan nel di 37 passaggi che dura otto mesi e mezzo e che ti vendono l'ebook da tre euro ci rendiamo conto cioè non funziona così questi sono gli errori e questi sono gli errori che mi fanno mangiare perché grazie a queste cose io riesco a vendere i miei di corsi che è differente ma è chiaro che il fan nel è una figata non posso dire di no ma il fan nel arriva dal momento in cui tutta la tua base di marketing è perfetta se anche se tu vendessi stuzzicadenti che sono la cosa più semplice su dice al mondo non posso parlare di stuzzicadenti invece sì tu potresti parlare di stuzzicadenti per mesi anche lì devi partire le cose semplice mi fai un super fan della minchia per vendere poi uno stuzzicadenti a 50 centesimi che vai fuori con le ads e il ROI non esiste più ok poi per chi ha fatto il le ads non servono un razzo il mio corso lì ho fatto c'è un caso studio bellissimo di una persona che vende cose che sono tipo gli stuzzicadenti andatevelo a vedere compratevi il corso perché perché è interessante cioè ragazzi si può fare tutto si può fare tutto l'importante che ci siano le condizioni giuste ok non voglio dire che si possono vendere tutti i prodotti con questo voglio dire che ci devono essere le condizioni anche del prodotto ma in realtà di questo di questo e di base lo sappiamo che deve essere così va bene ragazzi avete qualche domanda a proposito di inserzioni che spaccano tutto come proprio pugni che sfondano le noci di cocco o siete saturi di informazioni non volete più sapermi volete parlare non so del weekend tra l'altro ricordatevi che il 24 martedì alle ore 21 segnatevelo tra l'altro non posso neanche scrivere qua sopra vediamo quattro vediamo se me lo piglia il 24 aprile alle ore 21 save the date perché lanciamo face fast ci sarà una giornata un webinar dedicato ai cinque passi per trarre profitto dal social selling quindi quella sera farò io un webinar gratuito partecipate dove a fine alla fine del webinar lancerò face fast e vi darò la possibilità di acquistarlo in super promo ok quindi mi raccomando il 24 aprile alle ore 21 appuntamento se volete che ve lo ricordo io gli basta inviare un messaggio anche tu diana se vuoi che parte tutto in automatico ma invia un messaggio alla pagina c'è il bot che ti da tutte le informazioni scrivete un messaggio alla pagina marco doria il bot vi dice cosa fare il webinar poi lasci sulla pagina allora ci sto pensando allora per gli studenti per i razzi non c'è problema quindi tiziano non ti preoccupare i razzi hanno poi tutto nel gruppo che abbiamo degli studenti del razzo perché in realtà quando comprate il corso entrate negli studenti del razzo diventate dei razzi e quindi siccome che noi di là si spara solo razzate ma non si studia però lì poi rimangono tutti i materiali va bene ragazzi quindi ok ricordatevi quindi 24 aprile alle 21 chi non può esserci se è un razzo non si preoccupi e invece chi non è un razzo si attacca al razzo ragazzi va bene vi saluto salutatemi dai elisabetta dice tardi per partecipare dove sei stata elisabetta tra l'altro elisabetta ti ho scritto più scritto in privato e non mi hai risposto va bene dai ragazzi stasera io vado a mangiare l'argentino voi che fate mi faccio una bella mangiata di carne stasera stacco un attimo e si mangia l'argentino voi uscite e prendete l'aperitivo ciao 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 a tutti quanti vittorio non ti preoccupare grazie a te vittorio scarica il mio video gratuito oppure manda un messaggio alla pagina che c'è il bot che ti dice tutto in automatico se vuoi approfondire la cosa non ti preoccupare tanto prima che ti chiede i soldi puoi scappare in tempo prima che ti chiede di strisciare la carta ma attenzione perché nel nel miei miei fan sono sempre l'agguato lì che vi chiedo soldi striscia dammi qua elisabetta va a casa ok francesca gatto che fai tu va bene tiziano la prossima tiziano buona tisana tiziano grandissimo il mio erborista di fiducia diana esce con la figlia esci con la figlia dove andate di bello dove porta una una mamma la figlia adesso una volta andavano al mcdonald mi sembra una tipa da mcdonald io non so al massimo esco col cane con la mia cagnolina però noi andiamo a tirare la pallina cioè non abbiamo tanti tante cose per la testa va bene avete messo qualche like sono contento sì elisabetta dopo guarda francesca gatto dice vado a vedere un posto al sole upas detto anche ma tra l'altro quant'è che avanti sta telenovela napoletana sono vent'anni che c'è un posto al sole quasi e si sono vent'anni mi sembra di alice vado a cena fuori a 12 anni e cavoli se a 12 anni altro che mcdonald tra poi lei che porta a cena fuori te e sei tu che ti devi adattare elisabetta si ti ho scritto per quel discorso la che ci siamo parlati in privato con i vocali va bene ragazzi da allora buona serata io me ne vado all'argentino e ci aggiorniamo mi raccomando il 24 aprile tutti connessi per chi non l'ha fatto mandate un messaggio alla pagina invia messaggio il bot in automatico vi dice cosa fare ci sono le istruzioni ci sono i corsi gratis insomma non posso fare riassunto di quello che ti ho scritto in privato no va bene non è una proposta indecente attenzione che subito pensate lì e si diane certo che è così e certo sono finiti i tempi dove andavate al mcdonald a giocare e tu ria a fargli le foto è finita adesso è lei che ti fa le foto a te col suo smartphone fate i selfie insieme va bene ragazzi dai vi saluto buona serata ci vediamo non so se domani vado live non lo so vedremo perché è un botto di roba da fare soprattutto l'academy mi sta mi sta facendo uscire di testa quindi perché ne sto preparando due una è per il social selling e l'altra per il settore odontoiatrico buona serata a te diana dice il 24 tutti qui e ci manca dico io ciao ragazzi buona serata statemi bene